Ciao, buongiorno, meno tre, siamo solo più a tre carte delle essenziali, le essenziali delle carte che ho illustrato per Stefania Zani, che rappresentano delle piante da cui si estraggono gli oli essenziali, delle carte che le utilizza ogni mattina su Instagram per la sua diretta e per il giro veloce, io invece da 40 carte indietro, sono 40 le carte quindi 36, 37 carte indietro, ho iniziato questo viaggio dalle essenziali al sumier per traghettare la parola chiave della carta all'interno della pratica della pittura zen per arricchire la nostra esperienza di simboli, di percezioni, di suggestioni e in qualche modo facilitare un viaggio dentro quel mondo, quella dimensione, ma soprattutto dentro noi stessi. Andiamo a vedere la carta di questa settimana che uscirà tra queste tre, non posso neanche tanto mischiarle, faccio che spalmarle e tirarle su una. Elicriso. Ok, allora, luce, luce è la parola chiave, parola chiave collegata all'elicriso e questa è l'opera che ho realizzato appunto per rappresentare la pianta officinale. Allora, la parola luce mi fa venire in mente subito l'ombra, il suo opposto, il suo opposto ma perché è opposto si fa per dire, nel senso che è la faccia della stessa medaglia, l'altra faccia della stessa medaglia di questa parola e anche nel suo significato. La luce la interpretiamo molto spesso come appunto il divino e adesso guardandomi in cambio mi viene molto da ridere perché ho di nuovo questa maglietta che avevo quando è uscita la carta, che non mi ricordo la pianta, ma mi ricordo che era appunto la parola chiave era il divino. Quindi evidentemente le connessioni funzionano. Va bene, allora luce, la luce lo assimiliamo molto spesso, lo assimiliamo appunto al divino, utilizziamo delle modalità nel nostro interloquiva che rappresentano la luce come qualcosa di liberatorio, qualcosa di confortante, qualcosa che ci aiuta perché sono nel nostro uso comune, no? Finalmente dopo un periodo moneta ho visto la luce, questo ritornare in qualche modo in superficie. Ma veramente la luce e l'ombra non sono separate esattamente come noi, come tutti e tutti noi. come potrebbe esserci la luce se non ci fosse l'ombra e come possiamo davvero definire in termini precisi cosa è la luce e quando è luce e quando è ombra perché l'ombra potrebbe essere una luce molto diciamo poco, non intensissima e la luce se non ci fosse l'ombra non potremmo goderla perché sarebbe accecante e quindi queste due cose vanno veramente insieme. Nella pittura zen la luce potremmo pensare in maniera così molto veloce che potrebbe essere il bianco del nostro foglio ma invece non è il bianco del nostro foglio, la luce sono i nostri segni neri sul nostro foglio perché sono quelli che portano in essere il soggetto che andiamo a rappresentare e portano in essere l'emozione e la capacità, la nostra capacità di connessione quando veramente andiamo a dipingere non pilotati dalla mente ma più da quell'istinto, dalla sensazione, da quel sapersi connettere con le parti interiori e andare a segnare i fogli senza quel desiderio di controllo, senza quel desiderio di ricercare la forma ma lasciando aperto questo gioco affinché tutto ciò che emerge sia davvero il frutto di una libertà profonda e non di un controllo che costantemente mettiamo in moto e nella pittura zen quando non riusciamo a concentrarci come si deve e nella vita di tutti i giorni quando ci dimentichiamo che questo nostro desiderio di controllo alla fine porta risultati più scadenti di non quando invece ci lasciamo fluire e accettiamo le cose per quelle che sono e ci ricordiamo che ogni cosa che incontriamo, ogni cosa che arriva porta con sé a un fine e sicuramente ha un senso. È chiaro che su un piano terreno più basico, più materico la mente separa e giudicherà positivo, negativo, male, giusto e sbagliato ma bisogna trascendere tutta questa roba qui bisogna ricordarsi di dover fare quel passaggio per andare in qualche modo veramente a guardare la nostra vita e tutto ciò che ci accade e anche le nostre opere attraverso un filtro che vuole cancellare quella separazione e vuole veramente guardare le cose per quelle che sono ritrovando al loro interno l'anima e il senso è il messaggio e l'opportunità che spesso poi ritroviamo. La luce, scegliere la luce a discapito dell'ombra sarebbe un errore, l'ombra di per sé non è il male, l'ombra è l'invisibile, l'ombra è tutto ciò che è il femminile è tutto ciò che in qualche modo non è su un piano analitico e razionale ma che ha il suo peso e ha la sua importanza e anche banalmente tornando a questa immagine che ci richiama il divino incarnato nella figura del Gesù Cristo per chi è credente può essere il proprio riferimento ma per chi non lo è e comunque possiamo definirlo una figura, un saggio, una figura illuminata esattamente come il Buddha e come tante altre allora come avrebbe potuto questo signore qui portare a termine la sua missione, come avrebbe potuto manifestare la sua anima e tutto ciò che doveva in qualche modo portare nel mondo, offrire nel mondo se non ci fosse stata l'ombra, quell'ombra che noi spesso guardiamo come il male in pratica se non ci fosse stato Giuda ma lui non sarebbe mai finito in croce e non si sarebbe potuto manifestare tutto quello che da lì in poi in qualche modo poi si è andato a creare è chiaro che poi Giuda lo prendiamo e lo giudichiamo nel senso diciamo non si può fare, non è una cosa bella non si può uccidere, non si può, ma su un piano animico Giuda era diciamo necessario era necessario e ha risposto a una chiamata che era molto più alta e che trascendeva il bene e il male aveva il compito, aveva l'obiettivo di creare questa suggestione enorme di risvegliare gli animi e le persone attraverso tutta questa manifestazione di Gesù Cristo che doveva finire in croce e a cui serviva qualcuno che lo indicasse ai Romani perché questo potesse accadere. Insomma tutto questo lo possiamo riportare anche nella nostra vita, quante volte grazie a Giuda di turno siamo arrivati da qualche altra parte è chiaro che in coro nostro probabilmente possiamo alimentare e possiamo continuare a mantenere un sentimento negativo nei confronti di quella persona ma se trascendiamo e alziamo lo sguardo e guardiamo oltre al di là del bene e del male appunto ci rendiamo conto che magari il nostro Giuda ha risposto a una chiamata che era necessaria. Sul piano terreno ci avrà fatto un danno ma su un piano animico probabilmente no. Allora ne rimangono due, meno due. Ci vediamo giovedì prossimo, ti auguro una buonissima settimana eviterò di rimettere una maglietta con l'immagine sacra così, a parte che le due parole che restano non hanno a che fare probabilmente con il Divino, ma perché no? Sempre c'è il Divino. Quindi diciamo mi libererò comunque da un'immagine così troppo condizionante. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao, baci.